da oggi c'è una grande novità vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di cui studio a voi stadio abbigliamento uomo donna e bambino arredo casa e accessori esclusivi tutti con i colori della tua squadra del cuore per te o per un regalo originale non perderteli c'è un vero e proprio caos a livello di rinnovi per quanto riguarda Milan Inter e Juventus andiamo con ordine partiamo dai nerazzurri i nerazzurri sono alle prese con il rinnovo di Milan Skriniar Milan Skriniar ha vissuto un'estate particolare insomma lo sappiamo tutti è stato messo in vendita era arrivata un'offerta importante comunque per un giocatore in scadenza da parte del Paris Saint Germain di 50 milioni di euro l'Inter ha deciso di rifiutare questa offerta però il giocatore aveva parlato con i francesi che gli avevano proposto un contratto faraonico da 9 netti a stagione e quindi insomma il giocatore è rimasto un po' disturbato da queste voci probabilmente l'abbiamo visto in campo anche per quanto riguarda il suo rendimento e devo dire che chi segue da vicino l'Inter ha sempre raccontato di un rapporto speciale tra Skriniar e i nerazzurri un rapporto che andava oltre il fatto anche di avere un agente Skriniar il rinnovo con l'Inter l'aveva fatto praticamente da solo presentandosi in sede e quindi erano tutti abbastanza tranquilli che alla fine del mercato Skriniar avrebbe rinnovato il suo contratto con i nerazzurri già subito il 2 settembre il 2 settembre però è passato il rinnovo di contratto di Skriniar non è arrivato lo stesso giocatore ha tranquillizzato solo in parte i tifosi dell'Inter e adesso il Paris Saint Germain è pronto a tornare alla carica addirittura si parla di un'offerta per strappare il difensore nel mercato di gennaio un'offerta di 30 milioni di euro e il giocatore doveva rinnovare subito dopo la fine del mercato poi è stato detto se non rinnova la fine del mercato rinnova sicuramente durante la pausa per le nazionali adesso questa pausa sta per finire e il rinnovo di Skriniar non è arrivato e quindi è anche comprensibile il giocatore che ha ricevuto un'offerta così importante l'Inter potrebbe spingersi fino ai 6 milioni, 6 milioni e mezzo che è il tetto che ha raggiunto la primavera scorsa Marcelo Brozovic ma non oltre e quindi tanti soldi meno rispetto al Paris Saint Germain allora Skriniar che fa, rinnoverà, partirà a gennaio l'Inter accetterà l'offerta dei francesi da 30 milioni di euro per non perderlo a zero certamente il tempo per rinnovare il contratto di Skriniar sta per scadere perché forse era proprio questa pausa per le nazionali il momento perfetto per mettere la sigla sull'accordo questo non significa poi non vendere il giocatore perché se dovesse arrivare un'offerta da 80 milioni di euro non c'è nessuno incedibile come ha detto anche Paolo Maldini per quanto riguarda le società italiane però sicuramente il rinnovo aiuterebbe l'Inter a mettersi in una posizione un po' più di forza rispetto a quella attuale invece il rinnovo non è arrivato, nei prossimi giorni non sono in programma degli incontri con Skriniar e quindi la possibilità di perderlo a zero è sempre più concreta e quindi in questa possibilità potrebbe inserirsi il Paris Saint Germain per fare questa offerta che sicuramente non è irrinunciabile ma permetterebbe all'Inter di non perdere il giocatore a zero di incassare comunque 30 milioni che per le casse nerazzurre fanno comodo e quindi di uscire in questo modo da questa vicenda ingarbugliata l'Inter dal mio punto di vista quest'estate si è veramente incartata nel discorso dei difensori però ecco permetterebbe all'Inter di incassare 30 milioni di euro e poi bisogna ovviamente pensare anche al sostituto in questo caso non potrebbero essere investiti tutti i 30 milioni di euro però lo scouting dovrebbe lavorare per portare un giocatore comunque di livello in casa Inter nel mercato di gennaio altrimenti il rischio molto concreto in questo momento è quello di perdere il giocatore a parametro zero se ci spostiamo dall'Inter al Milan qui le cose non migliorano nel senso che anche qui doveva essere questa la pausa dei rinnovi è da tanto che si parla del rinnovo di Benassera addirittura c'è chi dice che fosse già pronto un video celebrativo per il rinnovo nei mesi scorsi e poi il rinnovo non è arrivato il Milan ha offerto 3 milioni e 200 mila euro al giocatore che attualmente ne percepisce ancora uno e mezzo fino al 2024 Benassera rischia di entrare anche lui nell'estate dell'ultimo anno di contratto a quel punto la forza contrattuale del Milan sarebbe sicuramente inferiore c'è una clausola non confermata nel contratto di Benassera da 50 milioni di euro si parla del Liverpool dietro i tentennamenti del giocatore sta di fatto che la firma dell'Algerino non è ancora arrivata non arriverà nei prossimi giorni e anche qui sarà poi il tempo della sosta della pausa per il mondiale ci sarà lì la possibilità di rinnovare il contratto ma anche qui la situazione è molto delicata e se arriviamo a gennaio con il giocatore che non ha ancora rinnovato difficilmente poi il Milan potrà avere un introito da 50 milioni di euro per il giocatore detto che a quelle cifre quindi a 3 milioni e mezzo insomma se il Milan riuscisse a trovare un accordo con Benassera è un giocatore da rinnovare ha dimostrato di essere molto importante per la squadra l'altro giocatore di scadenza nel 2024 ormai ne stiamo parlando da tantissimo tempo è Rafa Leao e Leao come ha detto lo stesso Maldini ha non solo il problema del rinnovo del contratto ha il problema dei soldi che deve dare al Lille anzi allo Sporting e anche qui c'è una triangolazione con il Lille che non si capisce bene con Maldini che ha detto cambiano spesso i nostri interlocutori prima Mendes poi l'avvocato di Leao che adesso lo sta seguendo anche per questa causa e quindi anche qui la situazione è molto complicata è vero che Maldini ha detto che sente, vede, intravede la possibilità di trovare un accordo con Rafa Leao per il rinnovo del contratto ma anche qui i mesi passano anche qui si rischia di entrare poi nell'estate nell'ultimo anno di contratto a quel punto diventerebbe veramente complicato per il Milan cedere il giocatore facendo una plusvalenza enorme si è parlato ovviamente dei famosi 100 milioni di euro a quel punto però con il giocatore in scadenza chi arriverà quest'estate, l'estate prossima a dare al Milan 100 milioni di euro per Leao? Difficile e se dal Milan ci spostiamo alla Juventus anche qui le cose non migliorano ma sono diverse nel senso che Di Maria ha il contratto in scadenza e il Di Maria che abbiamo visto fino a questo momento sembra non aver tanta voglia di proseguire con la Juventus ma la novità qual è? La novità è che è la Juventus a non aver tanta voglia di rinnovare il contratto al giocatore per intraprendere una nuova strada visto le perdite di bilancio per abbassare il monte ingaggi stavolta definitivamente e quindi non rincorrere più i giocatori che guadagnano dai 7 milioni in su come Di Maria ma andare con lo scouting a prendere altri giocatori con un ingaggio sicuramente più sostenibile quindi Di Maria potrebbe non essere rinnovato l'altro giocatore di cui si è parlato addirittura per un rinnovo ma che con tutta probabilità non sarà rinnovato è Rabiot Rabiot anche lui è in scadenza l'estate prossima è vero che è un giocatore su cui Allegri punta nel senso che è certamente considerato uno dei titolari però la Juventus se vuole intraprendere la strada della sostenibilità anche a livello di ingaggi certamente non può rinnovare il contratto a Rabiot che comunque ha avuto sempre un rendimento alto allenante e non ha dimostrato di meritare i 7 milioni netti a stagione sappiamo che con la mamma è molto difficile trattare sicuramente Rabiot per rinnovare il contratto vorrà come minimo ancora 7 milioni netti a stagione e in questo momento la Juventus ritiene questa richiesta irricevibile